entre anche tu nel circuito, eh forza stanno facendo il circuito che stanno facendo, eh no, quello che stanno facendo loro, e anche tu e il circuito insieme guarda e fai 10 Kelly lì chi è è è è è è è è 10 Lili 10 di questi 10 sempre quelli Barbara Allora non utilizziamo le braccia per salire Dove arrivo, arrivo Ma che forti, ma che forti Sempre, sì 20 di quelle E le parallele Forza Dai Barbara, forza Spinge, spinge, sì Vabbè però devi essere puntuale la prossima volta Se vieni 20 minuti dopo Dopo ti Va a corsa 10 di questi 10 di questi Buonissimo Concentrata Lili Parallele Ho fatto tutto Dopo lo vedete tutto 20 Barbara quelli Adesso porteremo tutto a 15 Fra poco Buonissimo Grazie a tutti Grazie a tutti